Montale, i giovani e la crisi, l'olocausto e una riflessione sul bene individuale, sono le tracce della prima prova scritta di italiano, debutto delle tracce per via telematica, ma in molte scuole arrivano le solite buste chiuse. Intanto preppi la commissione. Ciao ragazzi, benvenuti alla prima del nostro film, come sapete durante l'anno scorso vi ho ripresi in ogni singolo momento della vita quotidiana a scuola e ora vedremo finalmente che cosa ne è uscito fuori. È un film lungo, ci ho messo tanta pazienza, spero che vi piaccia. Ciao! Sì, ciao! Che stupido Oh, suggerito Dolly, se non sappiamo che amazzare anche noi Luca, Luca, non posso di pagare, se non so qualcosa C'è un'immagine? Luca! Che stupido Sì, se non entro metto la notte per me, come è? Anche tutti e due? Dico, molta soddisfazione, pensi dire? Siamo giocini mattini! Sì, è andato un attimo! Dove la faccio? A fare uno scanzo e la penesina, che poi ci ha tenuto mezz'ora! Per tutti si troverà uno, la distinzione è molto bella quando ha preso. Che è più spiegata di Adoption Clever? Lei è una da 10 in italiano. Vediamo, scusami! Un po' sotto la media! Un po' sotto la media! Vediamo! 8-9! Vediamo, inquadriamolo! 8-9! Ehi, notturno di Danuzio! Ma non ci credo! Tutore del tema? Sono stato paragolato dal notturno di Danuzio Adesso voglio vedere perché c'è questo! Per fare in modo di sapere per me a sto tema Mi sono fatto scrivere una parte da lui E la parte più merdosa, indovina qual è la seconda E chi l'ha scritta? E non vedete per cazzo! E non vedete per fare analisi di... A presto 9! A presto 9! A presto 9! A presto 9! Un po' sotto lailedatta! Un po' sotto la media! La Alfredo Inter comes in historia! Si rompere le scatole tutte le erogninge! Scusate! Uqué rispona è Ramsino! La vita è nostra, noi siamo padroni della nostra vita, vorrei dullare. Le scelte e le difficoltà che affrontiamo lungo questo percorso di esperienze che chiamano vita ci descrivono e ci raccontano in ogni istante con la profondità e la forza di mille parole. Grazie per la visione! 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 Promette bene, si promette tanto bene, ma Chieme, 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 chieme Ma dammi una lametta che mi taglio le vene Dammi una lametta che ti taglio le vene Ti faccio meno male del trapianto del rene Ti voglio bene, si ti voglio tanto bene, ma Chieme, 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 chieme Ma dammi una lametta che mi schioppo le vene Parlo già da sola e disegno nell'aria Certo, ho un po' peccato, ma che godoria Mi gioco tutto con cangore e buia E allora stop Senti come è fetta questa lametta Da destra verso il centro, zack Dall'alto verso il basso, zitta Che gusto, che nastro, chieme, 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 chieme E allora stop Vivere in fretta, prendere un po' Tutto conviene Dammi, 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 dammi Dammi una lametta che mi taglio le vene Mi faccio meno male del trapianto del rene Mi voglio nulla, solo mi paglio le vene L'aggia muri arr Un discorso Discorso, vogliamo il discorso adesso Musica 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 E' riascinto il 28? Sì Sì E' riascinto il 28? Puoi abusare Abuserai Abuserai Dica quando buco, Catelina, abuserai della nostra Della nostra pazienza Quanto è un mezzo? Io un mezzo è un po' la vista del posto No, il migliore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 L'amore in sé L'amore in sé No, dai Il castello dei destini incrociati Ok, vediamo 21 schifetti Non sa perché penso che partino a quello Perché ho per al nero Dai che dico Per al nero mi sono messo a tovertere le piene A fare il piccolo alchimista Un'ora e su niente Mi sono messo a tovertere le piene No, no, no Mi rimango il primo di presidenza Era osceno, però, ti ti prego Propp, lei quali salva? Ne deve salvare 3 No, perché la voce ha detto di niente Ah, buon E una storia Ho l'esame Oh, che scherzo Perché il tuo voto è inversamente proporzionale La facilità del libro, insomma Cioè l'ultimo cartone Era rupendo Ma era scubbido Oh, che scherzo Oh, che scherzo Ok, ciao A presto A presto A presto A presto Grazie a tutti Grazie a tutti Il modo in cui io ho i capelli, io ho i capelli, io ho i capelli, io ho i capelli, rappresenta il numero di ore di viaggio Mamma mia, buttala via, buttala via I bams quando vanno in vacanza ricevono cose Se adesso apro e non c'è una spoglierellista sul mio letto, tiro il casino Mamma mia, buttala 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 via Mamma mia, buttala via L'esperimento è costituito da due supermoduli identici Ogni supermoduli è costituito da questa parte E questa serie di rivelatori Mamma mia, buttala via Ragazzi, vi dirò la verità È un sugo pronto Mamma mia, buttala via 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 Sì, guarda, ti guarda da stupido a fare la scuola, metti a te la sarze acqua, te la sushiono tutti i studenti, se c'è una associata d'acqua e va a casa, mi fa un pane così. Sì, guarda, ti guarda, ti guarda. Sì, guarda, ti guarda, ti guarda. Sì, guarda, ti guarda. Sì, guarda, ti guarda, ti guarda. Shake 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 Tutte le interrogazioni programmate di filosofia, storia italiano e le presentazioni di scienze. Va benissimo, via. Ultima volta. Ultima volta. Ultima volta. Ultima volta. Grazie a tutti 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 Cazzo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti